Musica Musica Grazie a tutti. Con 30 imprese e con delle istituzioni che operano nel campo del commercio internazionale ma anche nel settore dell'acqua. Noi siamo particolarmente interessati a rafforzare la cooperazione tra i nostri paesi, forti del fatto che l'Italia è già il primo partner di Israele nel campo delle ricerche a livello europeo, secondo solo agli Stati Uniti. In vista del prossimo vertice italo-israeliano che si terrà in febbraio, noi speriamo di poter mettere in campo nuovi progetti sul tema dell'ambiente che diventa sempre di più centrale nelle economie mondiali e quindi ci auguriamo che questa visita sia fuori era di buoni risultati.